Sì Presidente, trattandosi di un tema anche estremamente tecnico che tra l'altro ho affrontato negli ultimi tempi in commissione con almeno un paio di sedute con anche diversi esponenti politici del tredicesimo municipio, nonché le figure tecniche, l'ufficio tecnico, la polizia locale e chiederei ai proponenti di ritirare l'atto e seguire e proseguire gli approfondimenti che già stiamo facendo su diverse aree di quel municipio. Io vado a memoria, abbiamo fatto sia una commissione sulla messa in sicurezza e riqualificazione di via Mattia Battistini che un'altra commissione un pochino più generica, che raccoglieva più istanze che si trattava di una messa in sicurezza di una svolta via Gregorio VII e un'altra parte riguardante via Pio XI, scusate se non sono preciso perché quelle zone le conosco relativamente poco, però siccome un dibattito in commissione sta andando avanti anche in maniera abbastanza spedita su diverse opere che interessano la viabilità del tredicesimo municipio, mi chiederei ai colleghi di fare questo anche perché poi trattandosi di un tema tecnico non è che posso decidere io con un atto di aula se serve più un semaforo piuttosto che una rotatoria piuttosto che qualcos'altro, se però invece l'intento è di lavorare sulla viabilità del territorio, disponibilissimi a farlo.